Ragazzi allora buona giornata a tutti dopo il video di oggi del primo video facciamo il secondo video per quanto riguarda la Super Lega è uscita una sentenza oggi del Tribunale Provinciale di Madrid molto importante a favore della Super Lega che vi vado subito a leggere allora i tre giudici del Tribunale assicurano che FIFA e UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente la Super Lega i giudici aggiungono che alla luce delle indicazioni che ci sono state messe a disposizione non ci sembra giustificabile il comportamento di convenuti a tutela degli interessi generali del calcio europeo quella che si avverte è un'azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante questo è stato detto poi mi pare inoltre non possiamo presumere in questa procedura cautelare che il meccanismo di distribuzione degli utili utilizzato da FIFA e UEFA che non è controllata da un regolatore pubblico indipendente costituisce necessariamente il meglio possibile per gli interessi generali dello sport poi la sentenza del Tribunale di Madrid ordina FIFA e UEFA di astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o azione contro la Super Lega e persino da rilasciare qualsiasi dichiarazione contraria durante l'istruttoria del procedimento principale che impedisca ostacoli direttamente o indirettamente la preparazione o lo sviluppo della Super Lega e vieta di annunciare o minacciare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei club dirigenti e giocatori dei club che parteciperanno alla preparazione della Super Lega cioè questo Tribunale di Madrid ha distrutto la FIFA e l'UEFA ecco questo è successo e questa è una piccola vittoria aspettando ovviamente la sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea che avverrà appunto ad aprile se non sbaglio quindi quella sicuramente sarà la sentenza un po' sul monopolio dell'UEFA perché prima c'è stata diciamo una correzione a dicembre vi ricordate no? quella sentenza che non era una sentenza era diciamo un punto di vista ecco che non valeva a favore di uno o dell'altro era semplicemente un punto di vista che diceva da una parte che non lo era dall'altra che lo era un monopolio praticamente quindi non è che si è capito tanto comunque con la sentenza di aprile si saprà meglio però questi sono punti molto importanti a favore soprattutto appunto delle tre che ci stanno mettendo la faccia anche per le altre otto perché ci sono undici squadre ancora in Superlega l'unica che ufficialmente legalmente si è tirata indietro se non sbaglio è l'Inter però per il resto ci sono ancora tutte dentro vincolate da un contratto firmato e praticamente appunto questa sentenza di questa mi pare che fosse l'appello quindi dopo il primo procedimento che aveva di fatto levato la possibilità di cioè aveva levato all'UEFA e alla FIFA o meglio aveva riconcesso all'UEFA e alla FIFA la possibilità di penalizzare tra virgolette le società poi c'è stato appunto sto appello e nell'appello ha avuto ragione di nuovo come è successo nella prima udienza praticamente ha avuto ragione la Super League poi c'è stato appunto il ricorso l'ha vinto l'UEFA e poi c'è stato questo appello ancora se non sbaglio mi pare che sia andata un po' così e l'ha vinto appunto la Super League quindi questo per quanto riguarda appunto la Super League e quindi Juventus, Real Madrid e Barcellona che sono le tre società che ci stanno mettendo la faccia non possono essere penalizzate squalificate punite in alcun modo perché praticamente di fatto aspettando comunque appunto la sentenza della Corte Europea però di fatto questo Tribunale di Madrid ha parlato di monopolio di UEFA e FIFA se loro continuano appunto a ricattare le varie società di calcio quindi questo è un gran primo passo poi staremo a vedere perché qualcuno mi chiede ma con la nuova società con Elkan e quant'altro faranno un passo indietro rispetto ad Andrea Agnelli per quanto riguarda appunto la Super League questo non lo so io ho detto che secondo me diciamo conterà molto la sentenza di aprile cioè se la sentenza di aprile darà in un qualche modo ragione all'UEFA e torto a noi probabilmente faranno un passo indietro per non metterci troppo la faccia e non rischiare troppo magari lavoreranno dietro le quinte ma lasceranno diciamo Barcellona e la Madrid nel caso in cui invece dovesse effettivamente definirsi monopolio quello della UEFA secondo me John Elkan John Elkan soprattutto in questo momento qua no che stiamo vivendo un momento economico non proprio felicissimo noi alla Juventus dico probabilmente affonderanno il colpo insieme appunto della Madrid e Barcellona per creare la Super League e nel caso appunto non volessero non volesse l'UEFA creare creare la Super League che non potrà farci nulla potrebbero avere comunque il contatto a parte manico per parlare e trattare a un tavolo con la UEFA quindi tra l'altro Laporta ha detto che comunque inizialmente Infantino presidente della FIFA era d'accordo con la Super League era disposto anche a dare una mano tant'è che ha concesso la Super League in Africa giusto per farvi capire quindi c'è da dire ci sono da dire che ci sono molte cose un po' controverse pure in questa situazione qua al di là appunto di quello che sta succedendo in Italia in questo momento qua da parte nostra piccola parentesi allora c'è chi mi dice sì ma le altre società piccola parentesi le altre società non sono state condannate o sono state assolte perché non c'erano nuovi elementi sì nel primo processo sono state condannate una multa cioè non si può passare da una multa a zero o da una multa a 15 punti di penalità perché sono venuti fuori nuovi elementi va benissimo tu allora mi apri un processo a parte non è che mi riapri lo stesso processo con accuse diverse ecco questo siccome non si può fare ma comunque al di là di questo e poi a differenza del passato appunto ripeto ci sono più situazioni che tendono ad essere a favore nostro poi se volete fare i moralisti perché voi state facendo moralismo non state parlando di regolarità o irregolarità perché vi dico e vi ripeto che quella fattura l'ha tra Juve e Marsiglia ok è servita per tentare di non cioè per far sì che quella quell'operazione di mercato non venisse considerata a scambio ma due operazioni separate bene anche se è stato così e hanno fatto dei segni sulla fattura ma poi è stata fatta una nuova fattura con le correzioni dettate dalla Juve ripeto c'è anche qualche youtuber che fa il fenomeno e dice io ho visto video ho visto post e quant'altro la mia domanda rimane quella dove sta l'irregolarità cioè tu puoi parlare di comportamenti strani di immoralità ma ripeto non c'è irregolarità non c'è non c'è perché non è irregolare o illegale illecito fare una roba del genere per aggiustare i conti per aggiustare i bilanci e va bene come come poi dimostrare ripeto che quella cosa lì poi è servita per iscriverti a un campionato una Champions League o arrivare primo arrivare secondo terzo qua cioè non lo puoi non lo puoi tant'è che sarà la manovra difensiva appunto della Juventus questa qui ma lo ripeto parlo agli juventini soprattutto cioè voi che volete fare i belli perché volete fare i belli volete fare quelli con la giacca e la cravatta che fanno i super partes e i super partes adesso non lo siete punto volete probabilmente non so farvi elogiare dagli anti-juventini va benissimo ma ditelo apertamente perché sinceramente secondo me state facendo una pessima figura per quanto mi riguarda però comunque tornando a noi una buona notizia almeno è uscita staremo a vedere staremo a vedere detto questo vi auguro buona giornata buona serata buona continuazione quel cazzo che volete noi ci vediamo in live ovviamente domani alle 12.45 sul tridente per il caffè sul tridente biaconero per il caffè col tridente e ovviamente alle 14.30 da me su Danio Orgoglio Gobbo che analizzeremo anche tutte queste situazioni qua va bene ciao a tutti e alla prossima e a domani ciao a tutti fino alla fine sempre comunque forza Juventus io ripeto la cosa che mi fa specie rispetto al 2006 è una perché arrivano più difese in questo momento qua dall'esterno che dall'interno e questa cosa qui non mi piace per niente perché capisco l'antipatia che sia per Agnelli il primo in persona sono io per paratici per chi cacchio volete voi ma per proprie idee ok qua non si parla di Allegri quindi di robe di campo che si cerca e si spera la cacciata di Allegri no qui si parla di penalizzazioni qui si parla di rischio di retrocessione che è diverso ok questo significa proprio non volere il bene per la propria maglia al di là che perché Agnelli non c'è più Allegri probabilmente se ne andrà quindi non è che non so se il prossimo anno comunque Allegri non è il futuro della Juventus bene mi dispiace ma sembra veramente che non cioè voi mettete la vostra antipatia nei confronti di Andrea Agnelli di Paratici della società che ci sta davanti però al bene comune che dovrebbe essere la Juventus e questa cosa qui io non la posso accettare per cosa? per sembrare obiettivi per accaparrarsi un po' di anti-juventini per fare no anche no ma non parlo attenzione non parlo di youtuber parlo in questo momento qua anche molto di utenti che cercano di fare queste robe qua a me non piacciono queste robe qua fino alla fine ciao alla prossima